No, c'è uno deus, ma sei matto? Ok, mi ha iniziato? Non so com'è, allora la seconda Ho iniziato, un'asto, un'asto, un'asto Aspetta, mi ha iniziato Questa è scherzata, ma che figata Ma che cazzo di figata Eh, merda, non ho abbastanza solle Ah, in range ti faccio più danni Ma che cazzo Oh, se non arrivo tra 20 secondi Ho il tunnel sul focco Torno subito 30 secondi Questa è un'asto Questa è un'asto Questa è un'asto Eh, mica, start to Merda Perché io non posso più aprire la chat Fumo Mi esce un libro con le bull del cazzo che non me ne frega assolutamente il cazzo Però è che ha aperto le piede, chi vuol dire Ma me la fa chiudere, oh no Merda Oh no Ah, oh merda ho fatto skill, porco giudo. Azzas vattrán fánkul. Ah la stanza stava andando a bat No, no, no No, no, no No, 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 no Oh la bottiglia Ma che cazzo ci fa questo qua Vai dai, ma che cazzo Oh la stanza stava Oh la stanza stava Oh la stanza stava Oh la stanza stava andando a bat Oh la stanza stava andando a bat top è miss è miss ha giocato tipo scultore di lui che stava in foresta vaffanculo che disazio io che sta in foresta se non me lo di non è ancora in vena radiance bottom tower is under attack al se no 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 radiance bottom tower has fallen sta avendo il tipo eh vai va finca non ho abbastanza da danno perca puttana cosa ne sta facendo riuscire il cazzo e se lo vado 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 e se e se lo vado forse e lo vado dire ed la la le la la le la la Sì, non è vero. Per mid, cazzo. Perfetto proprio, perfetto. Eeeh, gente, non è voi, porca miseria. Stanno salendo in 36, stanno salendo. Vabbè. Sto pingato. Radiant's middle tower is under attack. Oh, so good night. Radiant's middle tower is under attack. Parabell. Mica, sono lontanissimo. Sto pingato. Sto pingato. Sto pingato. Sto pingato. Ma ho bisogno di uscire da qui, ma che cazzo. Oh. Oh, esci. Nella speed Noo che stronzo Noo che stronzo Ah non sono andata Sono un invis anche se non sembra Noo che stronzo 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 Ragazzi Non ammazzarlo Noo che stronzo 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 Noo che管 Noo che stronzo Noo che stronzo Noo che stronzo 보�iato Noo che stronzo Voi! 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 Adesso! Oggi devo fuggire! Allora stare meglio fuggire... Ho grabato il tus... Un momento di... Sera! Vecchia! Eh no, la malattia è con la. Eh, può essere. Pumamai, io life steal molto meno con questo omino qua. Qua cosa scusami? I life steal su questo omino funzionano a meno degli altri. Che omino? C'ho 16 di armature più di 100 di dati. Lo devi prendere l'life steal. C'è l'life steal, ma faccio? Non life steal a un cazzo, non life steal a un cazzo, non life steal a un cazzo. Quello verrà? Quella che deve essere mele. Sì, non mele. Non funziona comunque nel 22 case se c'è la mele. Ma di cosa state parlando? Del troll war. Quella estima. Ah, Alex, non hai tanto danno. Tu fai un accello di danno in velocità. Dai, lo devi prendere. Eh, non è tanto, tu recuperi il 25%. Il 25% vuol dire che 30 di health. Anzi, tu recuperi il 20%, quindi... 22 health ogni health che dai. Direi che tu recuperi poco pian piano. Se poco, velocemente. Perché fai tatata Sicuramente Senta mesto qua Haruna Vitto Sono andato a mangiare il brasiliano Dio mio Non volevo più vedere carne Assolutamente Ah se ne è andato Io al mio mino non lo vedo più Invis Cioè non va più Invis il mio mino Boh un po' scoccupato Non so dove cazzo ne ho Non so dove cazzo ne ho Bolo Boh C'è la Dagon quello D'acorda la foto, che va perciò del Jogor Oh my god. Oh my god. Dia's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Non posso far male, non c'è un cazzo di ninja che possa far male, non c'è un cazzo di ninja che non c'è un cazzo di ninja. Mi sono fatti gli Ancent, che è quelli di botte. Mi sono guardati gli Ancent. Mi sono guardati gli Ancent, mi sono fatti il premio. Cazzo, oh merda. Mi sono guardati gli Ancent. 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 No Scusite! Caccia! Caccia dal loro VULS! Che voglio sto creeper Cattivo Fai che cazzo che tu non vado Cosa? C'è una guarda ...qu'è tricchere? ...è sta... ...qu'è una guarda lì? ...qu'è una guarda lì? recognised no, n'è giusto buoni sabogliardi, go 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 serva Vedi, neanche gli arsini per scappare, è ridicolo. Ma perchè hai il troll Alex o perchè hai la potente che farma? No, abbiamo... Troll... Tu? Shadowfiend? Io, Shadowfiend. E per me io vado nel bussolo per prendermi le anime. Non paro altro per un solo... ... 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 Grazie a tutti. 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 Fattele, fattele. Va a pushare. No. 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 Andare a fare fight, merda! Va vaffanculo, va Ma perchè cazzo sei andato a fare fight lì sotto? Sta arrivando la pia Ho capito Quanto cazzo lì dura? Più di nome ha lì durerà Eeeh, bocca puttà Ma è senza inco di critica su SWAT Sì vabbè, però lì hai persa tu la fight Cioè, non ho capito la pia Ma perchè cazzo sei andato lì? Ma me lo spieghi Perchè erano in tre Eeeh, erano in tre E' arrivata la pia Ah, a fine si Eh, a fine, però sono morte solo due persone Cioè scusami un attimo Perchè fai conto Per farne morire 5 dei nostri Non c'erano un guadagno Esatto, il quattro contro il numero Non si riesce a mattare tutti loro Chiamava Dragon, per favore Dov'è andare? C'abbiamo il Darkseer e qualche cosa Può giocare a carta C'abbiamo il Darkseer e il porca puttana Difendiamo sotto Tor Adesso dov'è recuperare le anime Che scalones Eeeh 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 Radiant's structures are fortified Radiant's middle tower is under attack Eeeh 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 I'm a shotta che sta già raffreddando che sta raffreddando Grazie. 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 romanzo non neanche zero se si scambiò ma basta di sfruttare ma quello perchè sei scarso oppure perchè... no male è Andromanto o comunque lo volevi provare? Allora Androm no stai neanche più giocavo, stai giocando solo con la notte no no Andromanto, se ho fatto gli eroi che non l'ho mai operato, l'ho preso, però beh voglio vedere no quando c'hai i 25 minuti, ma io la prima volta che la bravo l'eroe e a 50 minuti ho un item devi capire che non è molto lontano se uno contro uno, uno contro uno, ma io gli ho posto lo try, sui di calma Mastic non 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 Grazie a tutti